Buongiorno a tutti i miei amici di Facebook e Instagram, oggi sono in versione rapper, Robby Rappers. Potete notare i miei piedi, le scherze Giuliano Galliano, fantastiche. Tutte le celebrity le possiedono, dovete assolutamente averle anche voi. Notare il dettaglio. Fantastiche. Prendi, amazing. And Pampaloni Bag, l'argentiere più famoso d'Italia, con le sue creazioni. Mini Bag, in argento. The Silver Bag. Lorenzo sta facendo campagna vendita, questa è la mia borsa preferita. Sapete che a me non piace bere. Drink, drink, drink. Chiudi. E te ne vai. Thank you, Dalmilk Sherwood.